L'adrenalina di salire sul palco è come pensare di stare per morire, non avere più un cervello e una memoria, non ricordarsi nemmeno come ci si chiama e poi in realtà scoprire che appena esci dalla quinta, sai tutto e senti, anche se non vedi le persone, senti che c'è un'energia particolare ed è l'energia che senti anche sul palco. Io ho avuto la fortuna di essere sempre e comunque sul palco con gente che faceva un gruppo, come si dice, e quindi è proprio bello poi uscire tutti, prendere, dopo aver preso gli applausi e sentirsi tutti con lo stesso mood, insomma, quindi tutti carichi, tutti volenterosi di continuare a stare insieme. Grazie.